Ieri pomeriggio è arrivata la prima sentenza nell'edizione di Amici 24. La cantante Alena ha perso la sfida con Chiamamifero e ha dovuto abbandonare la scuola. Una parte del pubblico non è stato d'accordo con la decisione e, secondo un registro che si ripete, ha aspramente criticato la scelta gridando al complotto. Poche ore dopo l'addio prematuro al programma sono arrivate le prime parole della cantante, affidate ad un lungo sfogo social. Inizio con il dire grazie, grazie di tutto e a tutti, innanzitutto Maria e Rudy Zerbi per l'opportunità che mi hanno voluto dare e per la fiducia che hanno riposto in me, grazie alla redazione e a tutti quelli che mi hanno coccolata e fatta sentire come a casa. Grazie a tutti i vocal coach, persone molto competenti, con le loro lezioni mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita. E ancora, grazie a tutti i miei compagni vi guarderò e farò il tifo per voi, mi raccomando spaccate! Un grazie anche alle persone che mi hanno supportato e che hanno tifato per me, la mia famiglia, il mio produttore Kevin Pine Real, i miei amici e i miei fan. Questa è stata l'esperienza più bella e indimenticabile della mia vita, un'esperienza che ho desiderato in tutti i modi, durata poco ma che è valsa la pena vivere. Quindi conclude con una promessa, amici mi ha fatto capire cosa voglio fare nella mia vita, non mi fermerò questo è solo l'inizio, ho capito le mie lacune mi impegnerò e continuerò a studiare per poter migliorare. Spero che sia solo un inizio di un lungo percorso musicale. Un abbraccio a Lena. Il pubblico è tutto con lei. Si legge sulla pagina Instagram della ragazza, Ciao Lena, ho ascoltato la tua versione di Niente canzoni d'amore e sono rimasto profondamente colpito. Dopo aver sentito l'originale, ho capito ancora di più il tuo talento. Non lasciarti scoraggiare da questa battuta d'arresto, anzi, usala come trampolino per aprire la porta giusta che ti condurrà al successo nel tuo futuro, perché voglio continuare a provare emozioni ogni volta che ti sentirò cantare di nuovo. E c'è chi grida al complotto. Non penso sia giusto averla mandata via così presto, non ha avuto il tempo nemmeno di ambientarsi e l'altra essendo la figlia di Giorgio Gori e della parodia era sicuramente più conosciuta per quanto non mi è dispiaciuta. Almeno in altra settimana secondo me era giusto farla restare. I genitori famosi di Chiamami Faro avrebbero fornito alla cantante una corsia preferenziale. per non perderti i nuovi video.